Posa oppure cambio? Don Pasquale è un'opera abbastanza particolare perché è un'opera buffa ma ha una sua matrice abbastanza amara, si parla di mafia, di boss, eccetera, però è tutto visto in chiave ironica, quindi c'è una morale che cerca di strappare una risata all'interno di un contesto che molto di ridicolo non ha, che è appunto l'accettazione del tempo che passa e quindi di una condizione umana, fisica, imprescindibile che è quella della vecchiaia. La prima opera buffa che ha tutti i recitativi accompagnati dall'orchestra, quindi diciamo io vedrei Don Pasquale appunto come un'opera buffa che inizia un nuovo percorso e non come un'opera che conclude un percorso.